A Sant'Omero, dopo le relazioni di inagibilità redatte dai Vigili del Fuoco, che hanno dichiarato inagibili alcuni storici immobili in via Veneto e via Umberto, a pochi passi dal comune incastonati nel castello in uno dei luoghi urbanisticamente più suggestivi del comune vibratiano, ora sono state firmate le ordinanze di sgombero dal sindaco Andrea Luzzi. Gli abitanti di una dozzina di alloggi hanno dovuto lasciarli perché la relazione dei Vigili del Fuoco, rimessa all'ufficio urbanistico del comune, li ha dichiarati non utilizzabili. Le lesioni dell'agglomerato Lidizio, causate dal terremoto e aggravatesi nei mesi successivi a causa dell'incuria e della scarsa manutenzione per alcuni di essi, hanno portato i Vigili del Fuoco a dichiararne l'inagibilità. L'area su cui ricade il palazzo era stata perimetrata ed interdetta al transito pedonale, per cui è fatto di vieto a chiunque di avvicinarsi. Le vistose lesioni, alcune larghe qualche centimetro, erano state riscontrate in un locale posto al piano terra, ragion per cui anche le unità abitative sovrastanti erano risultati instabili o comunque insicure. I controlli dei Vigili del Fuoco erano stati estesi anche ad altre abitazioni situate all'interno delle mura castellane. Sono una sovrapposta all'altra e contigue per cui il rischio era che anche le altre costruzioni avrebbero potuto risentire degli effetti del sisma, come l'alloggio che per primo era risultato inaccessibile, e cioè quello che si affaccia su Via Veneto. Il castello era abitato per lo più da anziani, ma il sindaco Luzzi si è dovuto attenere alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco, a seguito delle quali ha firmato l'ordinanza. A Giulianova, dopo l'invito rivolto dal sindaco Mastromauro al PD, di cui assessori e consiglieri avevano disertato sia l'ultima giunta che la riunione di maggioranza, sono arrivate le dimissioni dell'assessore alla pianificazione urbanistica, edilizia privata, politica e per l'ambiente al demanio Fabio Ruffini, al quale erano state assegnate le relative deleghe nel luglio del 2017, secondo le indicazioni fornite dal PD in occasione dell'ultimo rimpasto. Di fronte a un atteggiamento che non ritengo istituzionalmente corretto, quello di disertare riunioni di giunta e soprattutto di maggioranza esiziali per il varo del bilancio 2018, ho ritiamato il PD al senso di responsabilità e ho detto al PD, al suo segretario, che questi atteggiamenti non si conciliano con l'amministrazione della cosa pubblica, che invece è una cosa seria, che non può essere trattata come un gioco, perché quando nel luglio 2017 è stato sottoscritto dal PD, d'articolo 1, un programma di fine consigliatura, si è iniziato un programma di grande impegno, a partire dal sottoscritto e dai miei collaboratori, per dare tante risposte. Vorrei che questo senso di responsabilità lo abbiano anche coloro che con me condividono questa avventura amministrativa, quindi io chiedo al segretario del PD, Gabriele Filipponi, agli assessori e ai consiglieri, di darmi un segno. Vogliono agire con senso di responsabilità? Altrimenti, se non lo vogliono fare più, io verificherò se ci sono le condizioni per andare avanti. Nel frattempo metterò in sicurezza la città e darò tutte le risposte ai miei concittadini, quella è la cosa che più mi interessa. Le deleghe, intanto, ho accesto a Fabio Ruffini di ritirare le dimissioni. Se non lo farà, in ogni caso le deleghe le terrò io e poi valuterò. Si ricordi che gli assessori li sceglie il sindaco. Come ho sempre fatto, non li scegliono altri. Come da tradizione erano migliaia i ragazzi provenienti da tutta la regione e non solo per celebrare insieme nel santuario di San Gabriele della Dolorata i 100 giorni agli esami di maturità. Manifestazione giunta alla 38esima edizione. Una giornata che i maturandi dedicano alla spensieratezza, una specie di ritiro spirituale con preghiera, confessioni, messe e momento di festa, prima di dover pensare seriamente alla maturità 2018, il cui fischio di inizio è fissato per mercoledì 20 giugno con la prima prova. A San Gabriele vengono a chiedere, anzitutto, di poter passare l'esame di maturità. Ma abbiamo cercato anche quest'anno di trasmettere un bel messaggio ai giovani, prendendo anche le parole di Papa Francesco, non lasciatevi rubare la speranza. E questo è anche il messaggio che oggi vogliamo consegnare a questi giovani, anche l'esame di maturità che sicuramente è una tappa importante per la vita dei giovani, ma non è il tutto. Quindi li sproniamo anche a dare e offrire altro che è importante per la vita di tutti i giorni. La speranza è che non dobbiamo mai farci rubare, malgrado le situazioni della vita. Ragazzi, cosa chiedete a San Gabriele? La grazia divina per gli esami, per sperare di uscire dalla scuola. 60 basta? 60 è perfetto, meglio 60 di 100. Cosa avete scritto sulla maglia? Non me lo ricordo, aspetta fammi leggere, tra una bistecca e un arrosticino agli esami gli esami vicino. A noi ci basta pure uno 60 e ce ne diamo pure in vacanza. Veniamo dall'alberghiero di Poppa, di Teramo, e chiediamo a San Gabriele di farci almeno una grazia per questo esame. Una maglia, cosa avete scritto? Abbiamo scritto invece di 5, ne abbiamo fatti 8 perché più che 100, 118, perché nella nostra classe siamo tutti ripetenti e nessuno ha fatto 5 anni di superiori, quindi c'è chi ne ha fatti 6, 7 e c'è anche chi ne ha fatti 8. Almeno un 60, almeno un 60, no vabbè chiediamo che ci dia una mano nel nostro studio. Le professoresse siano un po' sadiche, esatto, un po' più buone del solito. Da dove venite? San Mededetto del Tronto, liceo classico. Veniamo da Teramo, facciamo l'alberghiero e veniamo a chiedere di passare gli esami tranquillamente. Si spera. Si spera. Cosa avete scritto sulla maglia? Voglio una vita senza più esami, piena di gioia, 60 e campari. Veniamo da Teramo e chiediamo di passare gli esami nel modo migliore. Cosa avete scritto sulla maglia? Esami non ti temiamo, ai 100 ci sfondiamo. Mi raccomando non dimenticatevi le penne. Ce l'ho, eccola qua. L'imponente frana che ha invaso la provinciale 42 con massi enormi nel comune di Montore Albomano, fra Villa Vallucci e Santa Lucia, presto verrà rimossa e ripristinata la circolazione. Una notizia molto importante per chi abita quelle zone del comune montano, visto che l'unica strada ad oggi che permette la discesa vale un tragitto brecciato, che con le piogge può diventare pericoloso a causa del fango. Io capisco il residente, anzi mi scuso per il disagio che si è creato per la chiusura dell'SP42, che è dovuta a un forte dissesto di versante dalla parte della montagna. Io come provincia, stesso giorno della frana, subito attivata, abbiamo coinvolto la difesa del suolo in Regione Abruzzo, la quale in maniera tempestiva, in maniera immediata, ha subito finanziato quella frana per una somma di 200 mila euro. Quindi noi i Verdi abbiamo firmato per base ad un urgenza con la ditta incaricata e già da ieri abbiamo iniziato i lavori. Quindi se andiamo sulla frana, vedremo che c'è la ditta incaricata a parte di un Giteramo che già sta ad iniziare i lavori sulla frana. Qui in questo momento, in quella prima fase, abbiamo lavori di ispezione e poi inizieremo i lavori di rimozione del materiale roccioso. Noi pensiamo, in un termine massimo di un mese, di ripristinare la strada. Però comunque come provincia siamo mossi i dubbi in tempo, quindi l'attaggio stiamo facendo i lavori. Qui da ieri abbiamo iniziato i lavori. Capisco che la strada alternativa è una strada che abbiamo andato a verificare insieme ai tecnici comunali, è una strada difficoltosa, perché è una vecchia strada comunale che secondo me di tipo rurale in abbandono, quindi parliamo di una strada di Ghiaia, che non potrebbe secondo me essere quella alternativa. E capisco la difficoltà di raggiungere Montorio passando per Poggiunbricchio, perché abbiamo un aggravamento di circa 10 km per gli utenti. Noi come provincia siamo danneggiati come in realtà loro, perché è un dissesto di versante che è andato in cito la strada provinciale. Quindi è una montagna che è franata, in cui la competenza, come è stato attivato il finanziamento, è da parte di Fese e Suo Regione Abruzzo. Bisogna assolutamente lavorare per il futuro, perché lì già era successo dieci anni fa, per la totale messa in sicurezza di quella montagna. Sì, in realtà è sulla prevenzione, bisogna ragionare da parte con la Sesta Regione, di fare prevenzione sulla parte dei momenti franosi, perché è vitale che poi magari possano creare disagio imminente ai cittadini. Quindi di iniziare un ragionamento importante, come in realtà si sta facendo qui in Abruzzo, perché ricordo che da circa un mese fa sono stati finanziati 62 milioni di euro per i distessi idrogeologici. È un grande tema in Abruzzo che va continuato su questa linea fatta da quel lavoro che abbiamo interpreso con le scadere indisi d'ottobre due anni fa, in cui il dissesto è una delle grandi materie in cui bisogna affrontare in questa provincia. A Teramo la questione relativa al recupero del teatro romano è diventato un argomento molto sentito in città. Questo perché non è assolutamente piaciuta l'idea dei progettisti incaricati dal comune e dall'ex sindaco Brucchi a Teramo Nostra e le varie associazioni di quartiere. Per questo motivo lo scorso 8 marzo presso la sede del comitato di quartiere San Berardo a Teramo si è costituito il comitato promotore del referendum comunale per permettere così ai Teramani di esprimersi su questa importante opera di riqualificazione per la città. Il referendum in effetti chiede ai cittadini di voler esprimere un parere circa la volontà di voler fare un forum per decidere quale dei progetti praticamente approvare. Se quello iniziale è approvato dal Consiglio Comunale la proposta del professore Carbonara oppure quest'ultima proposta che però non è ufficiale e che è stato pubblicato dalla stampa di recente. Il referendum dovrebbe partire subito per chiarire praticamente quale sarà l'iter. Secondo il regolamento approvato al Consiglio Comunale il quesito e le schede devono essere presentate al segretario generale il quale le deve vittimare e da quel preciso momento ci saranno 90 giorni per raccogliere le firme e le firme devono comunque superare il 9% degli elettori della città di Teramo. Il referendum è rivolto a tutti quanti i cittadini ma anche a tutti i partiti politici e alle liste civiche che in effetti si stanno formando per l'elezione del nuovo Consiglio Comunale. Il direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione Marcello Dalberto ha inviato una nota ai sindaci dei comuni del cratere e ai professionisti, geometri, architetti, ingegneri delle province di Teramo e L'Aquila al fine di sensibilizzare le aree interessate alla presentazione delle istanze relative ai contributi per la ricostruzione privata con danni lievi. Una sollecitazione che di certo però non è piaciuta in primis ai vari ordini professionali che da tempo lottano con la farraginosità delle normative per l'espletamento delle pratiche. Abbiamo avuto ieri un incontro con il direttore Dalberto, un incontro preventivato da tempo dove lo stesso ingegnere affermava e riconosceva che in realtà la causa di questi ritardi è imputabile alla normativa abbastanza complicata nell'applicazione. Con Dalberto e con il responsabile del Genio Civile regionale di Teramo abbiamo concordato azioni per migliorare l'approccio dei tecnici alle pratiche anche se rimane un blocco normativo che va superato. Fra l'altro a breve entreranno in vigore le nuove norme tecniche delle costruzioni e quindi ci sarà un blocco fisiologico della presentazione delle pratiche al Genio Civile perché cambia la normativa e quindi vanno cambiati anche i progetti. Come professionisti abbiamo dato subito come ordine dei collegi professionali la nostra disponibilità a venire incontro anche alle istituzioni per quanto di nostra competenza per facilitare le operazioni. Purtroppo si è deciso a livello politico di adottare un nuovo sistema bypassando quello collaudato del Sisma dell'Aquila, sistema che sta mostrando tutte le sue pecche. In altre regioni gli scogli sono stati in parte superati abbiamo chiesto e pretenderemo nei giorni prossimi che anche in Abruzzo si riesca a velocizzare la situazione anche perché ci sono costi ormai insostenibili per l'autonoma sistemazione che potrebbero essere risolti facendo rientrare le persone nelle abitazioni con riflessi anche sociali sul territorio che soprattutto nel capoluogo risulta semiabbandonato. Il termine ultimo è sempre quello di aprile? Il termine ultimo è di aprile se non ci sono ulteriori proroghe. Fra l'altro non vorremmo che la nota di Alberto faccia intendere un lassismo da parte dei tecnici e quindi faccia propendere per non prorogare i termini. La ricostruzione è leggera, deve partire a breve, ma noi facciamo la nostra parte e ci attendiamo che le istituzioni facciano la loro. L'alleanza civica per Teramo, poco meno di due settimane dalla convention annunciata per la presentazione ufficiale del programma e soprattutto del proprio candidato sindaco continua i lavori di confronto per essere pronti per il 24 di marzo. Ad oggi sembrerebbero essere ancora tre i nomi papabili per la guida della coalizione delle Cinque Riste e sono gli ex consiglieri di opposizione Maria Cristina Marrone, Gianguido d'Alberto e anche Giovanni Cavallari, quest'ultimo lontano dalla scena politica da prima delle amministrative del 2014. Una situazione dunque che deve essere ancora chiarita, ma nel frattempo c'è chi già ha intrapreso il cammino verso le prossime amministrative con Cavallari candidatosi a primo cittadino con la propria lista civica. Dopo il 2014 che mi vide andare via dalla politica, adesso sono tornato, tornerò in pista per questa elezione amministrativa candidandomi a sindaco con una lista civica mia personale. C'è l'alleanza civica per Teramo che comunque racchiude diverse liste civiche al suo interno, ma ad oggi ancora non hanno un candidato. Una delle scelte potrebbe essere proprio lei? Sì, ho sentito con grande piacere anche il mio nome tra i possibili soggetti che potrebbero appoggiare queste liste civiche. Sinceramente non abbiamo mai discusso in modo diretto, in modo particolare sulle argomenti, perché non si può pensare di fare delle alleanze se non si condividono i progetti, non si condividono un po' la mia visione personale della città. Fa piacere, però al momento è ancora in una fase embrionale. Loro penso che il 24 del mese di marzo dovrebbero ufficializzare la candidatura e quindi per quella data si saprà chi sarà il loro candidato prescelto. Una volta ufficializzata la candidatura bisogna ragionare per creare ovviamente un'alleanza, una serie di vicinanze che siano strategiche, politiche e anche di lavoro per la città e sto lavorando proprio per questa cosa, anche per il programma, perché il programma dovrà essere condiviso tra tutti coloro che mi vorranno sostenere nel progetto amministrativo che mi accingo a intraprendere. Erano circa una sessantina le persone presenti al sit-in a Teramo davanti all'ufficio per la ricostruzione, organizzato dall'Associazione dei consumatori Robin Hood e dall'ex assessore al comune di Teramo, Franco Fracassa, per protestare contro la situazione di stallo che sta vivendo la ricostruzione post-sisma. È un sit-in che è abbastanza riuscito tenendo conto che è un giorno lavorativo e soprattutto per esprimere la rabbia di tanti che sono fuori casa, tanti che sono fuori casa per pochi spiccioli diciamo, c'è un aumento delle problematiche di carattere psicologico, sono dei suicidi, c'è una situazione di questo genere in quale l'istituzione è chiamata a dare risposte immediate, soprattutto per le tipologie di tipo B che sono i danni lievi che consentono con pochissimi, con lavori di piccola identità e quindi con importi relativamente bassi, rientro nell'abitazione di decine e decine, anche se direi centinaia di famiglie, quindi ripristinando una situazione sociale importante e anche un equilibrio di carattere psicologico per i soggetti. Sì, ho sentito anche che è stato criticato il sistema MUTE, voglio dire che il sistema MUTE è stato utilizzato in Emilia, viene utilizzato in un'altra regione, non penso che ci siano tutte queste problematiche, abbiamo un ufficio di oltre 20 persone, pare che ne servono ancora altre, pare che servono anche altre attrezzature, sta di fatto che sette pratiche sono state licenziate da quasi un anno, quindi la situazione per noi è abbastanza preoccupante. Avete chiesto un incontro direttamente con il direttore? Il direttore ha una funzione tecnica, anche le dichiarazioni fatte a lui secondo noi sono fuori posto perché ha una funzione di carattere tecnico, noi ci rivolgiamo soprattutto alla politica che deve intervenire con risorse per risolvere questa problematica. Le persone di Teramo sono stanche e vogliono tornare ovviamente a casa? Certo, 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 perché è un balazzino che ci siamo 12 famiglie, ci ha levato solo nei primi piani, a me un'altra vicchietta giù sotto, che non ci sta niente di grave, la piccola precatura è che quella si può giustare anche subito, c'è anche le bambine minore, c'è le nipote minore che sta sopra lo stato di famiglia mia, ci siamo dispersati che una parte che di un'altra, ci siamo stanche veramente, io sto malato, sto malato anche dei reni, non sto bello, il mio marito è uguale, è ora che ci ritorniamo a casa, se per caso mi fanno indagare spese mia, me lo voglio giustare anche da sola. In mio caso non si sa ancora che va a finire, perché siamo dal novembre del 2016 fuori e non sappiamo ancora cosa vogliono fare, sono 40 anni di sacrifici in quell'appartamento, buttati i mobili, stanno andando a rovina, stanno degradando proprio perché non prendono aria, niente, vediamo un po' dove andiamo a finire. Oltre 80 carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, Napoli, Ascoli Piceno ed Ancona con l'ausilio di unità cinofile hanno arrestato 11 persone, 7 in carcere e 4 domiciliari. Le accuse sono quelle di associazione infinalizzata al traffico illecito di droga, detenzione spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni. L'inchiesta è partita ad agosto 2017 sulla costa della provincia Teramana, in particolare tra Alba Adriatica e Martinsicuro, con il controllo di un pluri pregiudicato di origine campana, trapiantato da qualche anno sulla fascia costiera teramana. No, non è una puntata di Gomorra, anche se è un intercalare molto usato appartenente all'organizzazione, quindi abbiamo ritenuto giusto dare questo appellativo, questo titolo a quest'operazione che nella giornata di oggi ha consentito di sarticolare questo sodalizio criminale costituito da elementi sia di origine campana che elementi del luogo, alcuni albanesi, alcuni stranieri presenti sul territorio della provincia di Teramo, di Ancona e di Fermo, dediti al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Abbiamo disarticolato questa organizzazione che nell'arco di nove mesi, da quando abbiamo iniziato le attività di indagine ad oggi, ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, quasi 3 kg di cocaina, 4 kg di marijuana e hashish, e abbiamo sequestrato anche quasi 10.000 euro di soldi in vario taglio provento dell'attività di spaccio, un revolver e del munizionamento. L'organizzazione si muoveva, come le dicevo, nelle Marche e nel territorio abruzzese e aveva come base logistica il comune di Martinsicuro, da dove poi veniva spedita e distribuita la sostanza stupefacente ai vari elementi presenti sul territorio di Grotta a Mare, di Sporto Sant'Elpidio, quindi per poi essere la droga smerciata nei locali notturni e nelle normali attività delinquenziali del territorio. A terra il Presidente del Comitato Quartiere Cona, Domenico Bucciarelli, è tornato nuovamente a rinunciare la situazione di stallo che sta vivendo il progetto legato al trasferimento della centrale Enel. Le intenzze burocratiche degli uffici comunali chiamati a gestire la procedura, che potrebbe portare, secondo il Comitato, anche a perdere i 9,5 milioni di euro disponibili per la riqualificazione e lo spostamento della centrale. Sì, soprattutto nei lavori pubblici. La città vive nei momenti difficili sotto l'aspetto economico e sociale. Perché? Perché mancano gli investimenti. Gli investimenti in opere pubbliche sono una parte fondamentale per un rilancio della città. Che cosa è successo in questi ultimi dieci anni? O non sono state reperite le risorse attraverso finanziamento, oppure se sono state reperite le risorse, sono state annullate. Quindi, di fatti, c'è una situazione in cui manca l'intervento pubblico sulla città. Potremmo dire a Iosa, insomma, parlo del mercato coperto, del teatro comunale, del contratto di quartiere comuna, della localizzazione della centrale elettrica, della ricostruzione degli edifici comunali, a seguito del sisma e tante altre cose. Perché? Perché c'è un'amministrazione comunale che non è attenta, non realizza progetti e se i progetti vengono realizzati poi non vengono addirittura completati attraverso dei progetti esecutivi. Quindi, noi dobbiamo protestare, dobbiamo dire che bisogna invertire l'ordine per cercare di rilanciare questa città. Città attraverso interventi che siano qualificanti. Io ho avuto più incontri con il commissario, il commissario si è adoperato attraverso gli uffici dettando delle condizioni relativamente al contratto di quartiere comuna e alla delocalizzazione della centrale. Queste cose, benché sollecitate più volte anche con lettere, queste cose stanno lì in stasi in attesa di un'evoluzione che secondo me tarderà ad arrivare. Il pericolo qual è? Per quanto riguarda la delocalizzazione della centrale elettrica il pericolo è che le società, Enel Eterna, le quali società hanno contribuito o stanno per contribuire attraverso un sostanzioso finanziamento pari a 7 milioni, stanchino della situazione, mollino e non adempiano a quegli impegni che verbalmente hanno concordato. Quindi bisogna andare dalla fase verbale alla fase scritta. Questo avviene attraverso il Comune di Teramo che è l'entattuatore del provvedimento e pertanto se ne deve fare carica attraverso degli incontri, dei tavoli per poter cercare di mettere in atto convenzioni e accordi di programma. Questo è soprattutto un invito che lei fa anche per le prossime amministrative? Sì, sicuramente. Noi lo faremo a tutti i sindaci candidati. Vorremmo che si firmasse dei documenti e che nei tempi che noi andremo a prefissare queste cose venissero attuate. Appena che cosa? Appena la perda di finanziamento. Posso ricordare un dato. Il contratto di quartiere Gona è stato finanziato nel 2007. Siamo dal 2018 a 11 anni. Questo contratto è stato dimezzato. Sono rimasti circa 1 milione e 7, 1 milione e 8 disponibili e non si riesce a spendere nemmeno quella somma disponibile per opere pubbliche fondamentali. Quindi che cosa vogliamo dire ai prossimi candidati? di attivarsi in questa maniera per cercare di mettere in moto a Teramo un'attività di tipo economico che possa rilanciare un po' la città. Sarà l'attuale presidente della provincia Renzo di Sabatino colui che avrà il compito di ricompattare il centro-sinistra a Teramo per essere competitivi nelle prossime amministrative in programma con ogni probabilità nel prossimo mese di giugno. E' questa la decisione annunciata dal Partito Democratico che ha deciso di puntare su Di Sabatino candidato sindaco. Una scelta che da tempo era nell'area, confermata ora da parte dell'Unione Comunale del Partito. Da tempo molti dirigenti del Partito Democratico mi chiedevano una disponibilità. Io ho chiesto ovviamente prima di tutto un passaggio. Tra l'altro questo passaggio ieri sera non è concluso perché si è ritenuto opportuno sentire stasera anche tutti i circoli e magari prossima settimana estendere questa richiesta anche a una discussione affidata agli iscritti perché è importante la democrazia e questa. Dopodiché ieri sera io ho già anticipato quello che è il mio pensiero. Qua non ci si candida, non ci si alza la mattina e ci si candida a governare una città così importante e anche così complessa e con così grandi problemi. Io ho detto, ho ringraziato, ho soltanto detto fatemi verificare se vi sono le condizioni per costruire. Non un'alleanza per vincere, ma un'alleanza per governare questa città e portarla fuori dai problemi che ha. Ci sono due termini, due parole che sono fondamentali. Inclusione, perché il Partito Democratico da solo non va da nessuna parte ma non mi sembra neanche corretto e giusto dire togliamo di mezzo il partito e affidiamoci esclusivamente a movimenti civici. Entrambe queste realtà devono stare insieme. Inclusione e responsabilità. Non dobbiamo farci prendere dalla foga della candidatura ma dobbiamo sederci per vedere se ci sono le condizioni. Se nell'ambito di queste discussioni dovesse venire fuori un progetto serio magari anche con altri e non con me io sarò ben felice di essere stato uno degli artefici di questa ricomposizione. Il mandato esplorativo è infatti anche questo cioè interrogare quelli che erano stati due precedenti capigruppo del Partito Democratico, cioè Giovanni Cavallari e Gianluido D'Alberto eventualmente chiedere un passo indietro, anzi un passo insieme. Esattamente, chiedere a queste due persone un passo insieme a quello che rappresentano e a quello che c'è dietro ed insieme a loro con una sincerità e serenità perché ripeto Teramo è a un vivio e cioè è a un vivio per cui può continuare questo declino che mi pare ci sia un po' da anni per ragioni oggettive ma anche insomma per responsabilità abbastanza precise oppure quella di ripartire, ma per ripartire ci vuole una squadra compatta non ci sono persone che da sole vincono e non ci sono persone che da sole perdono. Se queste condizioni si dovessero verificare io sarei ben lieto di cimentarmi. Voglio fare una precisazione essere sindaco di Teramo è un onore ma per quanto mi riguarda diciamo per me è un atto di generosità poi vediamo se ci sono le condizioni anche sul mio nome se non ci fossero me ne farò una ragione cercheremo di vedere qual è la scelta migliore. Quanto tempo si è dato? Pochi giorni perché la situazione ormai diciamo stringe però quello che a me preme è stata un po' anticipata questa cosa io credo che sarà anche necessario parlare con tutti guardate io ieri sera ho fatto una cosa molto semplice mi sono fatto una lunga chiacchierata con il consigliere Verna con il quale come sapete ho avuto dei problemi in passato lui ritiene di aver avuto da me un torto io non ho contestato questo torto ho sempre detto che agisco per ragioni o ragionamenti politiche ma è per questioni personali